Salve a tutti e bentrovati! Allora, Billy, mancano tre settimane a Natale. Pare che gli avversari veri siano i blu! Sì, li ho visti a un talk show la settimana scorsa. Non sono stati molto gentili col mio disco. No, che farabutti! Ma hanno davvero molto talento come musicisti. Sì. Ah, Billy, ho saputo che hai un premio per i vincitori del nostro concorso. Sì, infatti, coso, entro come ti chiami. È una penna personalizzata con una punta di feltro. Oh, che bella! È splendida e scrive persino sul vetro. Così, se hai una foto incorniciata, come per esempio questa qui dei blu, ci puoi scrivere sopra. Abbiamo i cazzi piccoli. Ci sono tanti bambini che ci guardano, Billy. Ah, sì. Salve, ragazzi. Ecco un bel consiglio per voi da zio Billy. Non comprate la droga. Diventate una pop star, così poi ve la daranno tutti gratis. E mi sembra che sia il momento della pubblicità. Grazie al cielo, ci vediamo fra poco. Ciao, ciao.